Alle 15 fischio d'inizio del turno infrasettimanale del campionato di Serie D. San Cataldese sul campo della mezzia capolista che condivide il primato con il Catani a quota 9. Per i verdi amaranto, reduci dalla seconda sconfitta casalinga, un impegno tutt'altro che agevole. I tifosi sperano di ripetere l'impresa di Cittanova, ma non sarà facile contro una squadra che punta a giocarsi il salto di categoria con gli Etnei. La San Cataldese ha dimostrato di essere in grado di ottime prove proprio contro le grandi, ne sa qualcosa il Catania, arrivato al Mazzola per conquistare il passaggio al turno successivo di Coppa Italia e sconfitto ai calci di rigore. Oggi il primo a non sottovalutare la San Cataldese è l'allenatore della mezzia, Raffaele Novelli, che parla così sulla pagina Facebook del club Calabro. È una squadra che ha dei giovani, ma dei giocatori anche esperti, soprattutto nella parte centrale, con i due difensori centrali, ha portieri over, ha dei giocatori in avanti anche importanti. È una squadra che se gli dai campo, gli dai spazio, è una squadra che ti crea grandi difficoltà. Ma sappiamo benissimo che le partite sono tutte difficili, non esistono mai partite semplici o partite facili. Il quadro completo delle partite in programma. Canicattì Real Aversa, Castrovillari Acireale, Catania Vibonese, Sant'Agata Trapani, Cittanova Santa Maria, Lamezzia San Cataldese, Paternò Ragusa, Mariglianese Licata, Locri San Luca, Posticipo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.